cercare di metterle in pratica al nostro meglio per esempio la chiesa vi dice che va bene mangiare tutto potete mangiare il maiale potete mangiare le vongole queste cose qua andate a leggere i comandamenti sono comandamenti che sono stati dati a noi figli di israele non dobbiamo mangiare il maiale e poi scientificamente guardandolo il maiale fa dei danni assurde al corpo umano le vongole le cozze queste cose qua sono cibi impuri per noi uomini noi fi almeno noi figli di israele e comunque andiamo sempre avanti a mangiarlo ero facevo parte delle chiese e vedevo ogni tanto che facevano delle feste nella chiesa portavano fuori il maiale tutti mangiavano facevamo questi abomini davanti a colui che diciamo che è dio sono abomini proprio da non fare perciò figli di israele tornate dietro andate a leggere libro di deutronomi o i comandamenti cercate di mettere in pratica al meglio della vostra capacità è molto importante perché qui leggiamo chiunque dimora diciamo in versetto 6 chiunque dimora in lui non pecca vedete chiunque pecca non ha veduto e non l'ha conosciuto perciò questo versetto vi fa capire che tutte quelle chiese là che continuano a pecare non lo conoscono non lo conoscono la verità non si trova in chiesa in qualsiasi religione la verità non si trova fidatevi fratelli pregate al padre jahua nel nome di suo figlio jahua shai di aprire gli occhi per capire queste cose qua dovete desiderare questa verità con tutto il vostro cuore e vervi verrà dato la conoscenza questa se vado a leggere di nuovo versetto 4 dice chiunque fa il peccato fa ancora la trasgressione della legge questo è il nuovo testamento vedete quindi non è una scusa sto leggendo dal nuovo testamento trasgressione della legge qual è la legge è la legge che ha dato a mosse andiamo a leggere dal libro di proverbi capitolo 6 e leggiamo dal versetto 16 ok qui leggo il signore odia queste sei cose anzi queste sette sono cose abominevole all'anima sua gli occhi altieri ok mi fermo qua un attimo gli occhi altieri questa questa vita che viviamo giorno d'oggi che va di moda quando 11 11 11 si sente meglio degli altri anzi al giorno d'oggi è una lotta di chi è il migliore chi è meglio e questo è un abominio al padre ok la lingua bugiarda la chiesa ci ha raccontato bugie fino ad oggi coloro che ci governano che sono i figli di esau ci hanno raccontato bugie fino ad oggi hanno cambiato la storia dell'umanità nelle scuole insegnano che proveniamo dalle scimmie fanno di tutte le cose abominevole davanti al padre ok e le mani che spandono il sangue innocente e si continuano a spandere il sangue innocenti ultimamente i nostri occhi sono chiusi perché non vediamo se andate a fare una ricerca sulla parola pizza gate pizza gate ok è una cosa che hanno scoperto sì da quando è iniziato corona anzi nei giornali non parlano mai di questo parlano solo del virus corona e in realtà hanno trovato tutti questi capi di stato tocca a tutti i capi di stato quasi tutti tutti se non tutti ok ho incluso i clinton i bill gates incluso anche trump incluso tutti i presidenti arabi i principi l'acqua cosa fanno con i bambini tutti i bambini che vediamo i bambini che non si trovano nei giornali abbiamo visto dove finiscono e cosa usano questi perché cosa fanno con questi bambini qua li bevono il sangue fanno i riti satanici e questo fratelli dovete pregare a padre affinché vi apre gli occhi perché c'è tanto che sta succedendo ma la tv è proprio uno strumento di lavaggio dei cervelli copre i nostri occhi e anche noi stessi andiamo dietro a delle cose vane andiamo dietro all'illusione proprio illusione cose che non che non durano per sempre e non vediamo la verità ma invece se preghiamo al padre yahwah bahashem yahwah shai nel nome di suo figlio yahwah shai ci verrà dato queste conoscenze qua il padre anzi inizia a leggere da capo il signore il signore yahwah odia queste sei cose anzi queste sette sono cose abominevole all'anima sua gli occhi altieri la lingua bugiarda e la male e la mani che spandono il sangue innocente il cuore che divisa pensieri di iniquità essi essi i piedi che si affrettano per correre al male ok il falso testimonio che sbocca menzogne e colui che commette queste che commette contese tra fratelli ok queste contese tra fratelli parla della casa di israele ok perché questi queste queste qualità che abbiamo letto non non resta solamente ai figli di esau anche due terzi della casa di israele fanno parte di tutto questo infatti dobbiamo fare attenzione dai nostri fratelli usano i nostri fratelli contro di noi sono coloro i guardiani dei cancelli si dice se andate a guardare cosa significa gate watchers ok li imparate altrettanto perciò il padre odia tutto queste queste cose sono abominevole vediamo che nella tv è falso testimonio e sboccano solamente menzogne ok e anzi nella tv non dico che la tv è male ma bisogna avere lo spirito giusto per capire tutto quello che viene fuori dalla tv maggior parte del lavaggio del cervello è fuori dalla tv ok e dobbiamo fare attenzione a coloro che chiamiamo i nostri pastori la chiesa è menzogne ok la chiesa anzi fa come mette queste contese tra i fratelli se guardate bene ok il cuore che divisa pensieri di iniquità invece aiutare i poveri aspettano che i poveri si ammalano se che arrivano si riducono alla fine per poi portarli le crani da mangiare ok invece spendono soldi per creare armi bombe per andare a bombadare altri paesi questi sono i lavori di iniquità che fa il mondo questi sono i lavori che fanno il mondo ho detto prima che non volevo tenere troppo lungo questa lezione perciò vado avanti a leggere dal libro ok primo giovani ok capitolo 2 versetto 15 ok qui leggiamo non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo se alcuno ama il mondo l'amore del padre non è in lui vi è chiaro questo versetto ok non amate il mondo infatti a giorno d'oggi andiamo tutti dietro queste maledette carriere ognuno vuole diventare un boss ognuno vuole avere tanti soldi ognuno vuole vuole essere migliore ognuno vuole guidare la macchina migliore ognuno c'è una competizione diciamo è un mondo di competizione e ricordatevi questo non amate il mondo né le cose che sono nel mondo se alcuno ama il mondo l'amore del padre Yahweh non è in lui perciò tutto quello che è nel mondo la concupiscenza della cane ok e la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è del padre ma è del mondo avete capito cioè questo versetto è davvero è davvero pungente e profondo cari fratelli e sorelle figli di giacobbe i miei fratelli di venezia i miei fratelli di sicilia della sardegna napoli firenze polonia milano i rimanenti di giacobbe perché siete sparsi dappertutto i vostri padri avevano governato in europa per più di mille anni nei tempi di medioevo sono delle cose che non vi insegnano in scuola se tuo spirito accetta questa verità è la prova che sei un figlio di israele perciò venite fuori da tutte queste cose perché sta per accadere una cosa grande che voi non avete nemmeno immaginazione arriverà a breve la terza guerra mondiale america verrà distrutta che è la babilonia e assieme all'america i suoi aliati ok i paesi che formano in nato devo fare una lezione sul libro di apocalisse per farvi capire queste queste profezie sono tutte dentro che la chiesa non vi diranno mai non li troverete mai da nessuna parte solamente dalla bocca dei uomini dei signori Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai non ci è dato per niente perché siamo meglio degli altri non siamo meglio degli altri ma siamo i radici di Abramo di Giacobbe proprio come ha detto e noi abbiamo vogliamo vogliamo lavorare per il padre vogliamo essere strumenti nei suoi mani abbiamo sinceramente cercato questa conoscenza perché abbiamo sentito che c'è qualcosa che non va ecco per cui ci è stato dato questa conoscenza qua e questa conoscenza possa essere dato anche a voi se siete cercate la verità con sincerità perciò il mondo andiamo dietro a delle cose vane ok vogliamo avere macchine case tutto questo chiunque ama il mondo nelle cose che sono nel mondo se alcuno ama il mondo l'amore del padre Yahweh non è in lui avete capito è chiaro adesso andiamo avanti leggiamo dal libro di Giovanni e chiudiamo allora Giovanni leggiamo dal capitolo 14 ok versetto 15 che dice se mi amate oseverete i miei comandamenti questo sta parlando Yahweh Shai che dall'ignoranza chiamiamo Gesù ma il suo nome vero è Yahweh Shai e qui dice se voi mi amate oseverete i miei comandamenti la domanda è quali comandamenti se la chiesa ci ha fatto capire che i comandamenti non valgono e più nel nuovo era se tutti ci hanno fatto capire che potete fare tutto quello che vuoi sei tu che decidi il tuo destino facciamoci attenzione perché quello che sta per avvenire nessuno è pronto nessuno è pronto vi lo ribadisco questo sarà un'altra lezione ciò che sta per accadere nessuno è pronto nessuno è pronto tanti il cuore li scioppierà solamente dalla vista di quello che sta per accadere tanti perderanno proprio il respiro solamente dalla vista cari fratelli e sorelle figli di Giacobbe svegliatevi bellenisma vuota vi prego svegliatevi infatti questa verità non si prega a nessuno non è dato a tutti ok è dato solamente a coloro prescelti predestinati prima della nascita o che a ricevelo perciò se voi amate il padre Yahawa e il suo figlio Yahawa Shai oseverete i suoi comandamenti quali sono i suoi comandamenti sono i comandamenti che ha dato a Mosè tornate dietro a leggere questi comandamenti e cercate di osservarli al meglio della vostra capacità con questo detto chiudo questa lezione spero che qualcuno è stato edificato e alla prossima chiudo dicendo tutti i lodi adorazioni e tutto è dovuto al padre onipotente Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone che stanno facendo questo bel lavoro portando la verità nei quattro angoli della terra ai figli di Giacobbe affinché i figli di Giacobbe possano svegliarsi e chiudo dicendo Shalawam alla prossima Shalawam grazie grazie